è appena iniziato il documentario sulla seconda guerra mondiale vissuta a conga della campania e il primo protagonista il signor pasquale comparelli classe 1937 innanzitutto la ringrazio per aver accettato queste mie interviste chiedo scusa se la disturbo di domenica bene prego prego cosa ricorda dei tedeschi cosa posso ricordare della guerra ebbene dove la guerra conga è cominciata il primo novembre la guerra vera e propria perché fino a quel punto i cittadini conga ha vissuto in maniera pacifica con i tedeschi dopo l'armistizio dell'8 settembre però le cose sono cambiate e allora la pace si è trasformata in inferno e che le cose sono cambiate e quindi già il 9 settembre un nostro concittadino scappato dalla guerra scappato stava sul fronte è tornato a casa perché l'esercito si era sconquassato come lei sa è arrivato a casa e ha trovato dei tedeschi a casa sua che volevano attingere l'acqua alla fonte sua per stava in campagna questo lui si è opposto si è opposto e i tedeschi se ne sono andati erano in quattro sono ritornati e lo hanno ucciso anche perché di questa nata pressione sapevano che in una vasca da dove stava l'acqua c'era nascosto il fucile che lui portava presso i tedeschi avevano emanato un decreto con il quale si impediva di avere armi a casa e come lei sa e quindi lo evitare di essere attaccato lo uccisero come segno di punizione ecco come questo sia la prima vittima di conga della campagna ed è una frazione di una frazione e la ma era il 9 settembre del 1943 dopo dopo questa questo episodio si sono verificati altri episodi a occhio la nostra frazione era sopraggiunto un colonnello di origine italiana americano era venuto qui a con che i tedeschi sapeva che stavano per andarsene era era intorno al primo novembre il primo novembre dopo la fine di ottobre primo novembre questo colonnello aveva sentito che gli americani se ne andavano i tedeschi se ne andavano e andò a fare un giro di perlostrazione a occhi non lo si un'altra frazione di conga una frazione di conga dove trova trovo un ultimo tedesco che raccoglieva le ultime cose per raggiungere gli altri poi questo tedesco stava in gruppo a un asinello ma si e veniva dalla campagna perché era mi conviveva pacificamente con i cittadini di video di orchi non è che si comportava male diciamo si comportava anzi e proprio per questo i tedeschi lo avevo lasciato raccoglie ultime cose perché era un soldato amato dai dai con gli orchesi era giovane delle 18 19 comportava bene si comportava bene faceva anche delle opere buone portava da mangiare le persone anziane poi è cambiato di carattere rimasto sempre così rimasto niente stava era pacifica la cosa si era fatto prestare un asinello per andare in campagna e portava un ufficile addosso e poi successivamente com'è andata se n'è andato è morto stesso qui a conga il colonnello era travestito da frate mendicante e portava un bastone quando vedi questo tedesco la prima cosa che fece gli tirò uno bastonato e lo fece cadere e poi con il cucire stesso del tedesco lo uccise chiaramente e perché chiaramente per gli abitanti della frazione urchi è stato brutto perché non ha mai fatto del male darsi l'aria a riperire ai suoi superiori che aveva ucciso il tedesco ma quella era una persona pacifica a differenza di altre il ragazzo il giovane tedesco cadde a terra e col fucile stesso suo lo uccise poi il colonnello se ne andò questo tedesco aveva un altro militare con magna sua quando vedi che il militare fu ucciso avvertì i suoi riuscì a avvertire i suoi perché non erano molto lontani i quali vennero 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 perché si credettero che il tedesco fosse stato ucciso dagli orchesi invece non è vero e invece non era vero ma poi com'è andata a loro loro mandarono una pattuglia punitiva e fece una strage a non venire ammazzarono 13 persone di conga proprio di occhi sempre della frazione urchi chiaramente no che ammazzarono una persona di 13 persone che ammazzarono e gli altri si erano rifugiati altrimenti la cosa è stata ancora più grave chiaro quindi da un lato dicevo chiaramente questo è stato il caso raro raro di un tedesco buono ecco parlando invece di quelli cattivi parlando invece di quelli cattivi tipici come in tanti altri comuni ricorda qualche scena in cui a conga della campania o nelle frazioni cave vezzara orchi che prima ha citato ricorda qualche scena in cui i tedeschi rubavano cibo animali e i buoni più certamente ma quelli tedeschi perché i nostri animali e lei che ricorda che rubavano gli animali e i maiali soprattutto a casa vostra pure accaduto la nostra no perché non avevamo niente però principalmente rubavano i maiali qui i tedeschi quando entravano nelle case di tanti paesi della provincia casertana e non solo cercavano le donne e anche gli uomini per mandarli in guerra è accaduto anche qui qualche uomo è stato preso e portato in guerra di questi particolari non so nulla io perché poi ero ragazzo e invece qualche qualche vostro amico o qualche vostro parente che è stato mandato in guerra e non è tornato più si di parecchi 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 state questo passo per lo può mostrare prego si è un suo libro vero eccolo qua questo è un libro del signor comparelli che sto intervistando eccolo qui e qua c'è scritto riprende tutti quanti i fatti particolari dal dall 8 settembre come dico fino a quando ci sono andati tedeschi durante tutto ciò che è successo durante l'occupazione durante l'occupazione tedesca ci sono stati anche dei casi di casi di contrarietà verso i tedeschi per esempio la linea telefonica l'hanno un paio di volte l'hanno l'hanno messa fuori l'hanno messa così non si poteva entrare in contatto che minacciarono di morte quando si sarebbero accorti chi era poi questo non si è verificato più e quindi siamo rimasti e all'epoca all'epoca no siccome arrivavano i tedeschi no chiaramente quelli che erano i vostri genitori o i genitori dei vostri coetanei si preoccupavano e come in tanti altri paesi accadeva indubbiamente pur a conga nelle varie frazioni vi nascondevano in determinate località per proteggervi dei tedeschi qui a conga no quali erano le principali località dove vi nascondevano per non farvi colpire dei tedeschi dunque a orchi c'era una 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 chiesa c'era una chiesa e perciò per cosa stavo dicendo prima che orchi le uccisioni sarebbero state più numerose se non si fossero nascosti sotto il cimitero di di una chiesa che stava sotto sotto la quale era una cimitero prima stavano sotto le sotto le chiese allora questi tedeschi quanto a queste orchesi quando vittor che tedeschi andavano in giro a ammazzare le persone si rifugiarono sotto questa chiesa e la si scambarono molte 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 persone diciamo che orchi la frazione orchi era usata come località per non farsi individuare dei tedeschi e solo lì o anche altre località c'erano tipo qualche chiesa qualche struttura ricorda no chiese chiese nostre sono state risparmiate veramente sono state risparmiate c'è stato qualcuno con i bombardamenti sono quelli che sono stati fatti casuali che non sono stati bombardati alla chiesa la chiesa amata la chiesa ha avuto dei danni diciamo dei danni dei danni ma quelli bombardavano a casa bombardavano e molti di questi bombardamenti erano proprio fatti proprio dagli americani che magari lo facevano per per errore per per allontanare i tedeschi che bombardavano le persone le persone i luoghi dove supponevano che ci fosse tedeschi e ricorda qualche scontro tra qualche tedesco e qualche americano raccontano tante cose successivamente successivamente dopo questo brutto periodo finalmente poi lo dico in tutti i video e sinonimo di pace sono arrivati gli americani lei cosa ricorda degli americani ecco ci ricordiamo gli americani tutti quanti incontro gli americani perché prima eravamo nemici poi eravamo amici andavamo noi noi però non stavamo nelle nostre case arrivavamo tutti fuggiati sotto le crotte perché le case erano a rischio di bombardamento e stavamo sotto le crotte però degli americani avete solo ricordi belli chiaramente gli americani andavano incontro gli americani con i cappelli in mano per farci dare le caramelle solo le caramelle o vi davano pure altro diciamo cioccolate e caramelle a volte sapete pure che accadeva ed è bello questo che le donne come segno di gratitudine stiravano i panni davano da mangiare è accaduto anche qui a conga ah sì dove stavano facendo mangiare noi mi ricordo che avevano il pane bianco le chiamavano il pane bianco col burro e per noi era un pasto che non vediamo mai cioè era una novità era una novità era una novità novità una novità eccellente allora io ringrazio il signor comparelli per aver accettato questa mia intervista e le auguro una buona domenica grazie grazie a lei per la gentilezza e gli auguri di buon lavoro grazie grazie secondo intervistato di questo video documentario sui ricordi della seconda guerra mondiale vissuta a conga della campania e il signor domenico calce classe 1929 signor calce la ringrazio per aver accettato queste mie interviste le chiedo scusa se l'ho disturbata alle due del pomeriggio cosa ricorda dei tedeschi e mi ricordo che quando arrivi prima di arrivare i tedeschi comunque c'era un movimento la paura la paura di copri e dormavamo delle rotte con l'acqua cosa vi hanno mai beccato in queste grotte no non ci hanno mai beccato i tedeschi mai no hanno passato ci hanno visti pure magari nel vedervi anche bambini non vi facevano neanche del male magari c'era mia sorella che era una giovane era più grande era più grande si mettevano i bambini baci per far vedere che erano sposati e ricorda qualche scena conga della campania o nelle varie frazioni orchi cave tutte queste frazioni qui perché conga della campania tante frazioni qualche scena la ricorda in cui i tedeschi rubavano il cibo animale rubavano pure i cristiani rubavano tutte le persone di 40 fino a 60 anni mandavano anche in guerra se li portavano a germani e poi a carcoruna è tornato pure non è tornato e a casa vostra i tedeschi non sono mai entrati per rubare il cibo animale hanno entrati però hanno rubato la roba di manciara hanno rubato il maiale le mucche comunque pecore e vostro padre un vostro zio che chiaramente all'epoca erano grandi no perché sennò non hanno mai provato di prenderli per portarli in guerra oppure qualcuno ci è andato ed è tornato due fratelli di me sono andati in guerra però sono tornati tutti sempre perché presi dai tedeschi però sono tornati in perfette perfette condizioni mio padre non l'hanno beccato comunque si nascondeva si nascondeva allora prima mi avete nominato le grotte no perché chiaramente arrivavano i tedeschi oltre alle grotte c'erano altri luoghi principali di conga della campagna delle frazioni che venivano diciamo utilizzate come luoghi di protezione per non farvi individuare le tedesche come per esempio oltre alle grotte quali erano gli altri luoghi le grotte dove trovavamo comunque dove stavano secondo posto per esempio le chiese nascoste nelle bosche sotto le pietre comunque e siccome i tedeschi all'epoca rubavano cibo animali anche uomini e se riuscivano anche le donne quando andavate in questi luoghi no per sopravvivere cosa mangiavate cosa offriva la natura che mangiava mangiavamo che trovavamo sicure e cosa roba di verdura ci si accontentava anche le castagne sicuramente e castagne frutta sì però pano fagioli riso che chiaramente c'era qualcosa che chiaramente bisognava accontentarsi sennò come si faceva ecco lei prima mi ha detto che alcune persone di conga della campagna comprese le frazioni purtroppo sono stati mandati in guerra non sono tornati più altri invece sì ricorda invece sia conga della campagna o in qualche frazione di conga della campagna siccome conga tante frazioni c'è qualcuno che è venuto a mancare proprio a causa di uno sparo di qualche tedesco è accaduto anche a conga della campagna come parecchie quasi una sessantina o una botta persone che conoscevano conoscevo comunque le hanno presi le tedesche le hanno portate sopra una bosca una ripa l'hanno sparata l'hanno buttate sottra sempre per quella legge che se moriva un tedesco che lo uccidevano sparavano 10 italiane quello se c'è detto questo è il motivo perché il motivo che c'è stava linea telefonica comunque mettevano la linea i tedeschi che tenevano per conto per il contatto e per contatto da loro e e te lo signore del qua del posto sempre del posto e i tedeschi l'hanno visto no non l'hanno visto si allagava le scarpe e i tedeschi l'hanno trovata legata sopra le scarpe e quindi per punizione e per punizione rubigliere li facevano a buca e dopo lo sparero ci lo mettero a rendere a belero si è quindi in sostanza di facerlo fare a buca sì 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 è vero l'hanno fatto per in altri paesi successivamente come dico in tutti gli altri video documentari che realizzato si ricordi della seconda guerra mondiale in tanti altri comuni casertani e sinonimo di pace quello che sto dicendo poi sono arrivati gli americani cosa ricorda degli americani in particolare ricordo quando hanno arrivato gli americani comunque ci hanno abbracciati a tutte le famiglie ci hanno chiesto ai miei genitori se avete bambini nelle grotte andate a rapprendere portavano anche le caramelle e le cioccolate le caramelle cioccolate panini comunque bucate di carne se non erro mi raccontava non mi avete raccontato voi prima dell'intervista che avete anche preso un americano giusto per difenderlo però l'aereo comunque passavano l'aereo certi che bombardavano sempre degli americani erano zolandesi comunque stavano legati con gli americani comunque funghetti ha sparato un aereo avete visto proprio la scena di via da vicino si si vanno sparati mentre che non passavano quattro e cinque e voi nel frattempo per proteggervi dove stavate tipo dentro una casa no 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 noi stiamo sopra la montagna nascosti siete vivo per miracolo diciamo allora comunque è accaduto uno paracadutista di quello zolandese è accaduto proprio sopra dove stava la famiglia mio padre ci furono dei feriti e dei morti oltre a quelle no non c'erano nessuno al proprio padre comunque non avete compassione lo giorno lo faceva nascondere dentro le pietre dentro lo si è e la notte la portava a dormire dove dormiamo noi per umanità poi ce l'ha fatta diciamo a sopravvivere si sì ma la mattina che hanno passato proprio dal fronto che sono andati i tedeschi e non arrivati gli americani quello zolandese stava dorme stiamo con noi dentro lo pagliaro che tenavamo però poi com'è andato dopo un po' è ritornato nel suo paese dopo un po' ha parlato con i suoi colleghi comunque hanno detto vattene chiaro chiaro a pieri la fine non si sape quindi avete anche questo ricordo allora io ringrazio il signor calce per aver accettato questa mente il vista e le auguro una buona giornata grazie sono sempre qui a conca della campania stavolta con il signor ugo sant'angelo classe 1927 innanzitutto la ringrazio per aver accettato questa mente il vista e le chiedo scusa se l'ho disturbata di primo pomeriggio cosa ricorda dei tedeschi qui a conca della campania ed è che qua adesso l'ultimo momento che si ritiravano dal fronte si portavano tutti la gente le persone adulte per mandarle in guerra se si fermavano allora si prendevano e le portavano altrove e poi lasciavano se scappavano gli sparavano e ricorda qualche scena in cui i tedeschi rubavano cibo animali nelle abitazioni si abitazioni e tutti gli oggetti d'oro si prendevano tutti quanti alle donne e sfogliamano diciamo così si tenavano catenine le orecchine una cugina una vostra cugina e si andavano una vecchia e a casa vostra pure è capitato che hanno rubato qualcosa poi a un certo punto quando si avvicinò il fronte ci fece scombrare dice dovete andare via da le case dovevo andare nella grotta allora la grotta chi ci poteva andare a chi no diciamo che le grotte erano le località principali per essere chiaramente non visti dai tedeschi e per fuggire le cannonate per fuggire le botte perché ci mandarono via noi andavamo a finire e andavamo a stare così andavamo a stare insieme ai pecore dicevano anche che anche la frazione Orchi veniva usata come località per non essere individuati dai tedeschi però soprattutto Orchi e gli Orchi invece fu diverso era ammazzare una parecchia persona Orchi che conoscevate anche chiaramente sì il motivo quale era sempre legato un po' a quella legge se moriva un tedesco 10 italiani sì perché qualcuno non si comportò bene diciamo con i tedeschi oppure lo spararono qualcuno per errore o per altri motivi e poi a Orchi ci arrivò un frate un frate un frate cappuccino non era del posto però no ed è un ufficiale americano allora il scientifico è ammazzato nel tedesco allora ammazzato nel tedesco scesi i tedeschi dal campamento quando ne scontavano la strada ne sparavano piccoli russi e di più incendiarono parecchie case quindi di molte case sono state pure incendiate queste case qualcuno ha perso pure la vita oppure no 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 quelle che hanno sparato sì erano una decina padre, figli, riputi che conoscevate tutti chiaramente ricordate qualcuno di Conca della Campania o delle sue tante frazioni Catailli, Pisciariello, Poteta se qualcuno Vezzara, Cave, Orchi e Conca della Campania dove sto intervistando in questo comune ricorda qualcuno che è stato mandato in guerra e non è tornato più erano parecchie in guerra non sono parlato più che conoscevate anche sì anche non aveva di Conca questo aveva avuto un po' parente quando è andato in guerra di Russia e non è tornato più perché quando furono i prigionieri che finirono la quale cosa allora stavano togliati che scappavano erano musulini e gli disse di che mi fanno questi prigionieri ammazzateli e ne fuise le parecchie allora all'epoca chiaramente quando andavate in determinati luoghi ci andavate per nascondervi per non farvi vedere dei dischi ma cosa mangiavate per sopravvivere? quelle poche le avevano viste quello che la natura offriva poi si è venito ci sono le castagne e le mele quindi ci si doveva accontentare però in questi luoghi chiaramente nelle grotte in montagna o a orchi come dicevata i tedeschi non vi hanno mai beccato diciamo così e quando ne trovano andate ne spavano e io 30 anni aveva ragazza mi rifugia anche c'è spuglio in una camacchelle di Buscaglia e all'epoca tornando al discorso sempre i tedeschi chiaramente cercavano gli uomini per mandarli in guerra all'epoca chiaramente io so che vostro padre purtroppo già non c'era più ma qualche vostro fratello di vostro padre un vostro zio cugino hanno cercato di prenderlo per portarlo in guerra stanno tutti prigionieri i miei fratelli che sta venendo e sono tutti tornati diciamo sì sono tornati sono ritornati quindi nessuno è rimasto diciamo fuori sono tutti rientrati successivamente per fortuna sono arrivati gli americani cosa ricorda degli americani questa è la parte più bella gli americani ci si davano le caramelle ci si davano qualche cosa vorrei pagnotare le pane e scatolette militare per mangiare mi dicevano anche tante persone che ho intervistato anche prima di venire da lei e anche in altri paesi che le donne per sdebitare per esempio davano da mangiare stiravano i panni è accaduto anche qui? si lavavano i panni si servivano quindi degli americani chiaramente ha solo ricordi belli giustamente si si sono comportati molto bene guarda invece qualche scena di qualche carro armato americano che passava qui a Conca o nelle frazioni che passava quando quando erano armati auto blind le paremeccaniche chiaramente la paura i tedeschi tutti questi punticelli la strada le minavano per mettergli il passaggio allora dovevano metterle le mine anti-uomo e parli che sono morti chiaramente sempre conoscevano sì conoscevo le specie nelle alture più o meno alte che potevano guardare con i binocoli per vedere avanti ecco e parlando sia di sia dei tedeschi sia degli americani quali erano qui a Conca diciamo i luoghi principali dove si stanziavano e rimanevano pure per un certo periodo c'erano proprio o dove capitava capitava erano gli inglesi la divisione gatto inglese si è miscato pure gli americani ma dico qui a Conca nelle frazioni c'era proprio una località che veniva utilizzata parlo sia dei tedeschi che degli americani come luogo dove si stanziavano e rimanevano per un certo periodo diciamo beh si stavano pure i francesi poi io so che anche casa vostra occuparono giusto? sì gli americani però si comportarono bene non è che si si comportarono bene per più si stava un comando francese poi stavano anche dei marrucchini però il comportamento è stato io ringrazio il signor Sant'Angelo per aver accettato queste mie interviste e le auguro una buona giornata grazie grazie sono sempre qui a Conca della Campania precisamente nella frazione Cave con la signora Maria di Gasparro classe 1940 giusto? cosa ricorda i tedeschi? i tedeschi erano mio padre mio padre è una guardia comunale allora i tedeschi però va camminati bene li fecero una destra se noi non potevamo uscire non potevamo andare poi siamo stati sfollati da Cassino siamo venuti a Conca Campania sono venuti a Conca Campania a Conca Campania mentre venivamo da Cassino un treno si è fermato perché era carico di tutti noi a portare voi stavate proprio vicino al treno si e se vedevano là stavamo tutti insieme in affollamento chi cambiava a piedi chi è il treno e allora i tedeschi hanno fermato è sceso mio padre che ci aveva la testa che ci hanno consegnato i tedeschi e non gli hanno fatto del male non gli hanno fatto del male ci hanno fatto passare e siamo arrivati a Conca senza cosa però mio fratello era carabiniere doveva stare nascosto un altro fratello pure doveva stare nascosto e della vostra famiglia i tedeschi cercavano di prendere qualcuno per portarlo in guerra? si è sempre rascosto anche vostro padre? mio padre no perché ci aveva la testa non gli facevano niente quindi non potevano obbligarlo diciamo a mandarlo perché lui tenia a destra dei tedeschi e poteva camminare liberamente ma i fratelli l'altra sorella mia mamma dovevamo stare a tendere i corotti all'epoca accadeva che i tedeschi rubavano cibo e animali è accaduto anche a casa vostra? no questo qua non lo ricordo si è accaduto pure a casa però in altre case si in altre case si rubavano rubavano pure le donne certo quindi della vostra famiglia nessuno è stato mandato in guerra per fortuna? è stato solo mio fratello che andava la mia mia sorella si è mandata per strada così abbiamo trovato un razzo non lo so come si chiama è esclusivo e il mio fratello si è portato a casa e c'era io mia madre e suo fratello e dice ma l'abbiamo dato al mio fratello lui l'ha preso l'ha preso tre ditte così si l'hanno andata a me mi ha colpito dagli occhi quindi avete avuto un danno? si mia madre vicino a cambio e mio fratello tre ditte così che poi dopo l'abbiamo portato subito da dove stavano i americani per fargli un medicare ma qua non c'era un medico diciamo che poteva assistire non so come si chiamava un medico un medico con la tenta dove portavano tutti i feriti quindi per fortuna c'era un medico che poteva assistire con difficoltà però poteva assistire e lui si è stato minacciato da guerra invece della vostra famiglia o della famiglia di qualcun altro della frazione Cave o di altre frazioni o di conga proprio della campagna del comune ricordate qualcuno che è proprio morto a causa dell'armamento si avevo un monumento quello fatto qui sopra qui a Cave si a Cave c'è un monumento e poi gli tedeschi hanno preso un cambio e caricavano tutte queste persone che sono portate a lì a faete qui dietro si chiama un'altra località nella campagna però di queste persone anche se voi siete del 40 c'era pure qualcuno che conoscevate proprio si e poi è morta pure la figlia aveva il padre perciò ha fatto fare il monumento il monumento il padre e poi ci stavano pure altre persone che adesso e i motivi chiaramente magari che sono stati sparati sempre questi erano così che gli trovavano li prendevano e li portavano erano portati dentro a questa campagna poi le che hanno fatte le hanno messe tutti in vila erano sparati la prima le hanno fatte magari quella famosa legge se moriva un tedesco sparavano 10 italiani giusto? si era qualche tradimento diciamo così nei confronti certo tutti quanti i primi fettevano in vila dopo uno prima li facevano forse per terra dopo li sparavano li mettevano si si è vero questo è vero chiaramente all'epoca i vostri genitori si preoccupavano quando arrivavano i tedeschi e vi nascondevano quali erano i luoghi principali le grotte proprio in tutte le frazioni compresa? si tutte le grotte la mangiavamo la dormavamo quindi le grotte fondamentalmente erano nei luoghi come case la mangiavamo tutti cosa mangiavate per sopra? che mangiavamo? mangiavamo roba ecco questo qua facciamo la farina anche il mais giusto? il mais si e la farina la facevamo con i pietri facciamo questo pure me l'hanno detto con i pietri però i tedeschi non li hanno mai beccati nelle grotte no no mi ricordo quando mi prendevano c'è stato a me mi braccia e io avevo sempre paura perché era ragazza e allora però i tedeschi ripeto non vi hanno mai beccato nelle grotte no per fortuna stava mio padre che ci guardava lui qualche scena di qualche aereo di qualche carro armato lo ricordo qui a Conga nella frazione cave stava una cappella poi è stata tolta è stata ristrutturata oppure no no hanno proprio tolta perché era pericolosa però è stata distrutta praticamente non è stata più no e quelle qua sotto erano tutte distrutte in casa dove stavano prima non c'era niente più noi vi abitavamo rende i grotti poi quando sono venuti i americani allora abbiamo cominciato a vedere che c'era pure qualche cosa qualche scatoletta per mangiare le caramelle e le cioccolate un'altra informazione io non lo so perché chiaramente lei è del 1940 io è del 2002 quindi siamo quasi coetane abbiamo solo qualche anno di differenza ricorda invece perché in altri paesi accadeva che le donne per sdebitare gli americani per esempio stiravano i panni davano da mangiare gli americani pagavano pure accadeva anche qui sì questo come dico appigliavano pure queste donne che devono fare cose non gli dicevano niente però questi americani non vi siete mai innamorata di un americano? no io ero bambino allora io ringrazio la signora Di Gasparro Maria per aver accettato queste mie interviste e le auguro una buona giornata grazie grazie a lei l'ultima intervistata di questo videodocumentario sui ricordi della seconda guerra mondiale vissuta a Conca della Campania l'ultima non vuol dire la meno importante è la signora Angela Pietrantuono Angelina nota da tutti come Angelina classe 1928 sì cosa ricorda dei tedeschi qui a Conca della Campania? eh mi ricordo io già avevo 14 anni è passata la guerra a Montelungo sparavano i tedeschi e noi ci siamo dovuti riparare nei castegniti sotto le pietre per non avere addosso le cannonate poi un giorno sono venuto a casa mia i tedeschi ci hanno portato fuori però hanno detto a noi mamma e papà voi state tranquilli noi noi facciamo niente guardiamo solo Corrobinocolo verso Montelungo e domani mattina ce ne andiamo infatti alla mattina presto sono andati e noi siamo stati libri e indipendenti senza aver paura più di quella gente però i morti sono stati a Montelungo sono stati tanti e quando i vostri genitori vi nascondevano in determinati luoghi per non farvi catturare dei tedeschi no cosa mangiavate per sopravvivere principalmente eh qualche castagna eh sì un po' di erba cotta bisognava accontentarsi è chiaro accontentarsi giusto il cibo per andare in avanti per essere per vivere e ricorda qualche scena ricorda qualche scena non per forza nella vostra abitazione familiare ma anche nelle abitazioni degli altri in cui i tedeschi rubavano cibo animale sì i tedeschi l'ho detto che ci hanno tirato fuori a noi e loro sono rimasti coi cannonati che venivano da Montelungo verso noi allora poi siamo andati noi nelle grotte a riparare sotto le pietre per non averci per non farci cadere le cannonate addosso però a casa vostra no quando stavo quando quando stavate a casa vostra non sono mentrati che hanno rubato cibo e animali no 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 sono rimasti fuori la terrazza con lo binocolo che guardavano verso Montelungo ma noi non ci hanno detto niente non ci hanno dato niente quindi non hanno neanche tentato tipo di prendere vostro padre per portarlo in guerra per esempio oppure ci provavano no mio padre è stato ferito con una cannonata ha preso un progetto qua sopra però ha superato bene tra i medici che stavano ce l'ha fatta quindi ce l'ha fatta sì sì è riuscito a sopravvivere sì sì allora chiaramente a causa degli spari dei tedeschi in tanti paesi tante persone venivano a mancare qui a Conga della Campania e anche nelle varie frazioni no tipo Orchi Catailli delle persone con le quali avevate un legame di parentelo di amicizia che sono venute a mancare a causa della guerra le ricordate? no a mancare proprio no però sono state portate in Germania i fratelli mandati in guerra mandati in guerra a mante delle guerre sì e quella no a mancare proprio morire no per la guerra a casa mia non è morto nessuno e invece altre persone con le quali non avevate un legame di parentela no quindi amici conoscenti è accaduto che qualcuno è stato mandato in guerra e poi non è tornato più di Conga della Campania no sono tornati quasi tutti per fortuna sono tornati i giovani come i miei fratelli mio cognato e tante persone a lungo è andato sono stati per due tre anni fuori però sono tornati tutti mio fratello a Roma ha riuscito qua in piazza è stato preso dai tedeschi a Roma ha riuscito a buttarsi nel momento che si sono fermati mio fratello ha riuscito a scappare dietro i palazzi e poi è ritornato dopo tanto tanto tempo in perfette condizioni di salute però no 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 sono tornati bene sono bene e ricorda qualche qualche struttura di Conga della Campania qualche chiesa qualche casa che è stata incendiata o quasi distrutta ma è stato distrutto un grande palazzo che aveva 360 camere è stato il perno della città diciamo del paese perché i tedeschi ci hanno buttato per terra e dopo noi siamo andati a vedere e tutta la roba loro avevano roba buona roba di valore tutta per terra la gente hanno approfittato ognuno ha preso qualche cosa se l'ha portato a casa però è stato un danno terribile ma poi questo palazzo successivamente è stato ristrutturato col tempo no no è stato adesso ci sta qualche casa così ma non è stato più ristrutturato come prima successivamente sono arrivati gli americani cosa ricorda degli americani gli americani no gli americani ci ha lavorato pure mio fratello gli davano le scatolette gli davano qualcosa da mangiare sì però sono stati bravi a noi si sono comportati bene ci hanno portato bene sì all'epoca mi raccontavano che le donne per esempio stiravano anche i panni agli americani gli davano da mangiare come segno di gratitudine no siccome loro questo è vero sì c'era una signora che faceva la sarta e loro riportavano le camicie da giustare e poi gli davano da mangiare gli davano le scatolette robe quindi robe da mangiare a quella signora sì sì anche qui a Conga della Campania quindi accadde sì poi che mi ricordo il fatto quando si hanno portati i tedeschi e tutti stavano al centro del paese si è fermato un camion e hanno detto che gli davano qualcosa da mangiare venite qua venite qua ci hanno portato allora invece l'hanno fatto salire su un camion e se l'hanno portati e allora i strilli della gente e poi quelle persone sono ritornate in paese quasi tutte per fortuna invece qualcuno no qualcuno sì no un giovane è venuto dopo tanto tempo è venuto malato e quindi dopo due tre mesi si è morto proprio perché e degli altri prego prego dice vada perché gli altri sono ritornati tutti buoni lui è venuto con un so che era malato già malato e quindi era una signorina che apparteneva a una persona del posto del posto del posto alta della guerra lui questa signorina gli fece paura gli fece impressione a vedere sto giovane che barcolava e stava per cadere allora obbligò al papà assolutamente quel ragazzo lo doveva mandare a casa è stato così dopo poco tempo l'ho mandata a casa ma siccome che era già malato mal dirotto si è morto dopo poco si è morto e degli altri invece non si è saputo nulla insomma l'ipotesi è che erano deceduti diciamo siccome altre persone non sono ritornate in paese l'ipotesi quale era che erano deceduti sicuramente le altre persone che non sono ritornate diciamo no no quasi tutte sono ritornate quasi tutte a casa poi certo qualcuno sono ritornate dopo tanto tempo e in questo frattempo le famiglie stavano disagiate perché mancava il papà mancava qualcosa che per la campagna per poter da mangiare i figli noi eravamo sette figli noi e io ero erano tre fratelli si erano portati i tedeschi poi uno come disse che si era salvato a Roma e venne dopo tanto tempo ma gli altri vennero vennero a casa dopo finita la guerra sane e salvi lui con qualcuno pure pure gli altri insomma allora io ringrazio la signora Pietrantuono per aver accettato questa mia intervista e le auguro una buona serata grazie 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 mille di avervi conosciuto e di aver parlato con voi con tante cose per me passate buona serata grazie 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 a tutti grazie a tutti